Come un martello, Beppe Iachini ha condotto il suo primo allenamento allo Stadio San Nicola, seduta all'interno con il gruppo al completo, tranne Dio, e tanti consigli per i suoi nuovi giocatori che avranno il compito di risalire la china dopo due settimane difficilissime. Il sessantenne tecnico di Ascoli Piceno si è legato alla società Biancorossa con un contratto fino al 30 giugno 2025, un anno e mezzo, con l'obiettivo di risolvere una piazza, quella biancorossa, che è il morale ai minimi storici dopo le due sconfitte consecutive con Reggiana e Palermo. Due campionati di serie B vinti con il Chievo-Verona e proprio con i siciliani rosa-nero, due promozioni anche con Brescia e Sampdoria e una lunghissima esperienza in serie A dove ha guidato Chievo-Brescia-Palermo-Sassuolo-Empoli e Fiorentina. Iachini porta con sé il allenatore in seconda Simone Pavan, il preparatore atletico Fabrizio Tafani che prenderà il posto di Giorgio d'Urbano e il collaboratore tecnico Vincenzo Mirra, ex calciatore della Lazio. Un investimento importante è quello della proprietà che si è accollata a praticamente un terzo staff tecnico nel giro di un anno. Il 3-5-2 è il modulo più utilizzato in carriera con la variante 3-4-1-2. Il modulo lo fanno le caratteristiche dei giocatori, ha dichiarato in una recente intervista Iachini c'è in attesa dell'eco, la sua avventura a Bari è pronta a partire!